Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con un ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti, bentornati su GIOVIAC di SPO Io sono GIOVISPO e questa è l'estrazione più il nuovo contesto a 100.000 crediti Dunque ora ci sarà la parte dell'estrazione in seguito, la parte delle regole e cosa fare per poter provare a vincere 100.000 crediti per PlayStation 3 e PlayStation 4 Allora, dovrete commentare con un numero da 1 a 100 Bene, l'avete fatto, ci sono un totale non so di quanti commenti, vabbè dettaglio, visto che anche avete condiviso Mi fa piacere questa cosa, mi fa molto piacere che seguiate le regole Dunque, detto ciò, andiamo ad estrarre il vincitore di 100.000 crediti Numero 53, vediamo chi ha commentato con 53 8, 11 No Vediamo, 288 2, 8, 8 2, 8, 8 2, 8, 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 9, niente 3, 3, 8, credo neanche 356, 354, 354, 338, che è l'impreviso di un telefonino 338, 444, 444, 444, perfetto 61, 61, 61, 67, peccato peccato 11, 116, nulla Generiamo 50, no, credo 50, no No, no, no 50, no 393, neanche Vediamo Nulla Continuo, tanto posso farlo 239, 239, 239, 239 Oh, 243, ma laia 223, 267 283, 283, 283, 283, 294 Molti numeri vicini di qualche decina 194, 194, 194, 194, 194 194, nulla 324 Oh, 325, peccato, peccato per un solo numero Peccato, 346, 346, 346, 346, 354, niente Peccato, peccato, 346 Oh, peccato, peccato 346, 346, 346, 325, ho già detto 346, niente 211, 211, 223 294, niente Continuo 99, credo di no 99, 99, 99, 99, 99, niente 327 25, di nuovo 327, niente Dai, che fino alla fine esce un numero 282, 282, non credo Ma non mi sono imparato a memoria Quelli che ci sono 282, 282 Nulla 171, non credo No, niente 332, no Non credo 323, 232, 233, 332, niente 71, no 71, 71, 71, 17 Potevi mettere a contrario Vedete, risprime il 7 e poi l'1 71, niente 71, niente 267 267 267 267 267 267 Ah, apposto Non ho trovato il vincitore Si tratta di Nicky Cheese Cese Vabbè Hai vinto il contest da 100k E scrivi Ah Contattami qui Su Facebook Per ricevere Il premio Una faccina felice Ci sta Dunque Ha vinto Nick Nicky Cese Cese Vabbè Dunque Rispondi Faccio vedere che Rispondo Anche se ora Se ne è andato anche Internet Rispondi Risposta inviata Un secondo qua Dunque Ora Mi metto il coso Con le regole E tutto Di un altro contest Da 100k Crediti Per partecipare Essere iscritti Al canale Dovete mettere Mi piace al video Condividere Il video Dove volete Su twitter Google plus Dove volete Voi Poi scrivere Partecipo Con un numero Da 1 A 400 Quindi Ripeto Mettere mi piace al video Condividere E scrivere Partecipo Con un numero Da 1 A 400 Dunque L'estrazione La farò Fra 24 ore E Rimanete Sintonizzati Sul canale Ciao